fan di star wars e non è il momento di mettersi in gioco nella battaglia reale perché ci sono tantissimi premi gratuiti da riscattare bene ragazzi io sono martex bentornati su nuovissimo video mattudino lo star wars day è proprio dietro l'angolo ragazzi il 4 maggio si avvicina e noi come sempre festeggiamo tutto ciò support night nuovo aggiornamento nuove skin nuovi item nuovi poteri nuovi movement e tante cosette come il mini pass battaglia che trovate proprio qui alla sinistra del pass stagionale ragazzi accediamo che saud è spettacolare ragazzi è spettacolare nonostante io non guardi la serie di star wars non ho mai seguito nulla se non il mandaloriano e boba fett ho guardato solamente i premi 2 è quello che uscì nel 2019 poi mi son perso ma qui belli miei abbiamo qualcosa degno di nota stringa blu e stringa rossa funziona esattamente come i vecchi pass battaglia che trovavamo nel capitolo 1 tutti quanti li amavamo ciò significa che è la stringa blu e quindi tutti gli item che troverete qua sotto si potranno sbloccare gratuitamente tutti i player potranno sbloccarli uno per uno indipendentemente dal fatto che possiedono il pass oppure no e quindi per pass stagionale intendo proprio questo qui ma andiamo al dunque la stringa rossa a che cosa corrisponde a degli item che si possono esclusivamente shoppare e quindi attivare il percorso ricompense premium come vedete qua in basso a destra clicchiamo su potenziamento e vediamo che cosa dice tra l'altro ragazzi le skin sono davvero belle soprattutto lui ben mille vbac il prezzo è corretto oppure no a mio modesto parere sì perché raga ve lo spiego subito è molto probabile anzi sicuro al 100% che tutti gli oggetti o almeno le skin che vedete in questa schermata usciranno prima o poi nello shop giornaliero ci sta scritto anche qui gli oggetti del percorso ricompense premium potrebbero diventare disponibili in futuro nel negozio oggetti e quando ci sta questa scritta ragazzi escono sempre è molto probabile che una skin come dart maul però in quel caso venga a costare solo lei 1500 vbac quindi stiamo parlando di un mega sconto quest'oggi mille vbac per tutti gli oggetti che vedete qua sotto io come sempre vi ricordo codico martex della tienda di fornette da riaggiornare ogni 14 giorni ragazzi messa avete modo di sciopare qualcosina nelle cose oggetti considerate tutto ciò altrimenti i codici delle mie mappe in creativa son qua giù li trovate nella descrizione di questo video potete giocare tutte le mappe che volete e mi sosterrete anche in quel modo primissimo item allora semplicissima emoji ok uno scala livelli questo è buono ragazzi miei hanno presentato tramite l'ic di ieri anche il nuovissimo scala livelli che ci accompagnerà in questo fine season all right bella questa schermata mi ricorda i portali che ho visto anche in game ci sono dei portali meravigliosi ragazzi mi hanno riportato alla stagione dei cacciatori bellissimi un altro scala livelli man mano che andiamo avanti come potete ben vedere necessitiamo di più punti reputazione galattica questi li andremo ad accumulare facendo e completando delle missioni quindi gli incarichi che sono stati proposti per queste sfide emot bellissima gratuita tra l'altro piccolo sguscio e dopodiché abbiamo uno spraico carda galattica altro scala livelli ed eccolo qui ragazzi si è baggata prima skin gratuita soldato clone prima skin gratuita unica e sola se possiamo definirla così dopo di che abbiamo il pass premium e quindi qui si passa ad un background un po più rossiccio ti fa capire che ok la parte bella è finita se dovessi sbagliare qualche termine qualche pronuncia ragazzi miei tranquillissimi vogliatemi lo stesso bene purtroppo non seguo questa serie come ho già detto ma apprezzo tantissimo bello raga lui ricordo tantissimo che quando ero bambino mi faceva tanta 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 paura ma per davvero questo invece detto con tutta sincerità non capisco se sia una skin gratuita oppure no ringhio di dart maul emoji semplicissima scala livelli una frappozza che si va a collegare ovviamente alla skin bella anche lei un altro stile arancione e blu soldato clone di asoka ok dopo di che abbiamo anche un piccone non mi piace per nulla il movement di questi picconi no 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 per me è bocciato ragazzi gettone scala livelli e poi lui ragazzi ma quanto si presenta bene ma è bellissima questa skin è troppo fiera se tutto ciò ovviamente finora non bastasse torniamo un attimino indietro perché abbiamo anche il deltaplano infiltratore sit esattamente questo ragazzi miei è gratuito e dovremo raccogliere tre holocron sit per sbloccarlo facciamo vedere il rischieramento un'altra volta mi piace mi piace come potete ben vedere ho già sbloccato un holocron sit ci vorrà un pochettino per andare a completare il tutto perché no 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 se n'è andata la canzoncina ragazzi non abbiamo tantissimo tempo per sbloccare ogni singola cosa che vedete qui nel momento in cui sto registrando io questo videozzo mancano ben due settimane e sei giorni si può dire tre settimane al completamento di ogni singola cosa anche perché tra quasi cinque giorni ci saranno altre sfide verranno rilasciati altri incarichi che potremmo completare per andare avanti con la nostra reputazione prima però direi di far valere i nostri mille vbac rigorosamente non scioppati perché non abbiamo scioppato niente quest'oggi e ci andiamo a riscattare questa prima parte oddio prima parte scioppiamo praticamente tutta la parte rossa e quindi tutta la stringa rossa al che mi chiedo se scioppo la parte rossa non sblocco automaticamente quella blu vero credo e spero di no proviamo ragazzi vediamo vediamo che cosa accade un bello pollicione all'insù mi raccomando è molto importante per il canale ragazzi miei confermiamo l'acquisto e si va ok ok aspetta 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 credo che ci troviamo di fronte ad un bivio perché se non avete quell'occhietto di falco tutto ciò potrebbe sembrare una mega scammata ma non lo è aspettate fermiamoci è come se attualmente noi avessimo sbloccato l'accesso al pass battaglia quindi sta a noi portare avanti quest'ultimo come giocando e completando i vari incarichi che ci sono appunto in questo evento di star wars che durerà fino al 23 maggio alle ore 15 quindi ad esempio quando arriveremo a 4000 punti reputazione sbloccheremo il backpack e la skin 5000 punti reputazione lo spray e l'emoji 6000 punti reputazione 2 scala livelli altrimenti ragazzi miei procediamo come facciamo con gli altri pass che cosa accade ad inizio season voi shoppate il pass battaglia e se volete andate avanti livello per livello shoppando i singoli livelli 150 v bucks per uno qua sotto ci sta questo tastino che magari qualcuno non avrà visto è sì vi dico sono felice di aver scoperto questa cosa assieme a voi perché magari avrei potuto registrare meta video e lasciare questo mega punto interrogativo in totale tutto ciò se qualcuno di voi volesse shopparlo immediatamente non viene a costare mille v bucks contando che ogni singolo livello viene a costare 150 v bucks per ragazzi spenderemmo un totale di mille 650 v bucks worth non è worth oddio fin quando credevo che il tutto costasse mille v bucks era super super worth adesso non lo so ma potremmo essere ancora in quella soglia perché ripeto una skin del genere come quella finale di maul non lo so raga secondo me verrà a costare sui mille e 500 v bucks o almeno mille due skin singola noi procediamo ragazzi miei abbiamo ricaricato i v bucks acquistiamo le ricompense andiamo e ci siamo portati tutto tutto a casa ok anche se vi dico la verità aspettate mamma mia quanto è bello lui quanto è bello è fighissimo il background che si va a muovere nel momento in cui andiamo a zoomare di cosette comunque ne abbiamo ottenuto ragazzi io equipaggio immediatamente lui bello riscattiamo fantastico abbiamo tutto anche se vi dico la verità almeno la stringa superiore me la sarei voluta guadagnare avrei voluto sbloccare questa prima parte con i punti e quindi in maniera super legit e quest'altra invece solo scioppandola ne approfittiamo comunque sia per dare un'occhiata da vicino alla skin e soprattutto per portarla in game ma secondo voi riuscirò mai a trovare un piccone che può sembrare una spada laser secondo me qualcosina ce l'abbiamo qualcosina potremmo trovarla vediamo qua no ok aspettate 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 magari una spada rosa oh bellino non lo so però vediamo andiamo qua giù bella pure lei ragazzi la spada del match ci sta benissimo così vediamo no questi no assolutamente no forse anche lui babba mia raga bellissimi ricordavo un altro doppio piccone rosso però come se fossero due bacchette aspetta era un piccone forse raro no questo no no mi sa che no eccolo no ragazzi questo è bellissimo queste io ho due spade laser non ne ho una tra l'altro una è rossa e l'altra è arancione vabbè equipaggiamo il mio consiglio principale è quello di scioppare il mini pass battaglia e quindi la stringa rossa che trovate sotto a quella da free to player ma fermatevi lì nel senso non andate avanti come ho fatto io sbloccando ogni singolo item pagandolo 150 v bucks io lo faccio per content per mostrarvi qualcosa in una sorta di anteprima anche se non lo è sono degli item che sbloccherete nella stessa identica maniera che sbloccherete quelli su ragazzi quindi nella stringa blu quelli free man mano che andrete avanti con gli incarichi belli miei sbloccherete entrambi gli item sia quelli di su e quelli di giù è identica la cosa guarda guarda da chi mi vado ad allenare e si è proprio lui ragazzi spero di farcela accettiamo spettacolare entriamo nel portale aha oh mio dio madò raga no ma è troppo forte fa troppo male ma poi quanto è veloce nello scatto guardate un po no 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 è troppo più la spada rossa raga troppo 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 uh guardate qua che bei movement hanno migliorato un sacco tutto cioè davvero fantastico guarda qua belli miei io spero che il video di oggi sia stato di vostro gradimento spero anche di esservi stato aiuto nel capire come funzioni questo pass battaglia la stringa gratuita e la stringa premium quindi quella rossa qua giù a pagamento con il mille v back solo per sbloccarla attenzione codico martex per tutti coloro che volessero sostenere il canale se avete dubbi domande di qualsiasi genere riguardo a questo evento di star wars scrivetemi qua sotto e cercherò di rispondervi un grazie infinito a tutti quanti voi vi lascio con il refresh dello shop giornaliero a prestissimo se ancora non siete iscritti distruggete il bottoncino rosso qua sotto e quindi il tasto iscriviti come al solito un bel SIA BROTHERS 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 SIA BROTHERS